Siamo qui perché con oggi diamo avvio ad un percorso che speriamo sia un percorso che oggi inizia e che ci vedrà protagonisti per tanti tanti anni a venire. Oggi inizia la prima tappa di un percorso che è il veridiano d'Europa, che non è soltanto un progetto ma che vuole essere un itinerario, un itinerario per cercare di costruire impegno, responsabilità civile e perché non anche le condizioni per poter creare il cambiamento nel nostro paese ma nell'Europa che vogliamo. Io ve lo vedrei anche questo vostro viaggio come anche una ricerca delle radici dell'Europa, dell'Europa che si è fondata sul riconoscimento della propria diversità e vent'anni fa il mondo assistito al misconoscimento invece di quelle diversità. Quando tornerete avrete modo di raccontare sicuramente alle vostre comunità, alle vostre scuole, ai vostri luoghi di appartenenza quello che avete vissuto e quello che avete visto e questo vostro racconto spetterà a noi criticarlo, spetterà a noi dare alle vostre voci, dare al vostro racconto una voce che possa arrivare nelle sedi istituzionali. Noi abbiamo bisogno di più Europa, di quell'Europa di pace, di quell'Europa di tolleranza, di quell'Europa che supera e accoglie le differenze ma combatte l'indifferenza. Grazie.